Fumogeni rossi dalle finestre e lo striscione appeso sulla facciata dell'edificio Visconti occupato. Dopo l'Albertelli, da ieri sera, un altro liceo di Roma si è unito alla mobilitazione contro governo Meloni, portando anche solidarietà alla Palestina. Per i ragazzi il grido degli studenti del Visconti va contro un modello scolastico sbagliato, come esplicito dal nuovo regolamento di scuola, che in continuità con la circolare del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sulle sospensioni e il modello di scuola-azienda, sposato sia dal governo Meloni che dal centrodestra. E poi c'è la questione israelo-palestinese. Gli studenti parlano apertamente di politiche belliciste sconsiderate su diktat della Nato, l'aumento delle spese militari per fomentare i conflitti bellici nel mondo e il genocidio in corso in Palestina. Il prossimo appuntamento degli studenti a Roma e in tutta Italia è con la mobilitazione del 17 novembre, in cui scenderanno in piazza per reclamare una nuova scuola pubblica.